Come già sapete sono uscite anche le giacche e le mitiche t-shirt della linea Omisu Per lui, per lei, bellissime con una banda totalmente personalizzata Il logo gigante sulla schiena Omisu che significa acqua Edizione super limitata, acquistabile fino a gennaio credo Grazie Ciao bambini, come state? Il bambino mangia? Bene Questo è Electric Ah, devo fare io? Se vuoi Esatto, e oggi siamo qui riuniti Perché Kisuke negli ultimi due anni non ha fatto altro che pianificare Dalla sua vendetta Tipo dottor male, non lo so, sempre lì nella sua grotta Come farò a riprendermi la mia vittoria? Noi oggi ci sfideremo su Pokémons, baby, pokémons E io ancora mi devo preparare la squadra da portare Tra l'altro ho scoperto che i miei due Pokémon principali sono da rifare Perché ho distribuito male le V Che devo fare bulky e quindi ho distribuito tutto sulle difese ma mi sono scordato degli HP Ma sei un genio Eh, ho capito ma è inutile che ho tanti HP se poi ho poche difese e con un colpo me li tolgono tutti E poi non funziona così Allora voglio portare qualcosa che ti spiazzi Una piccola soddisfazione è che almeno uno dei Pokémon che ho fatto funziona perfettamente Hai già giocato online quindi Sì, sono arrivato al grado Pokéball nelle lotte in doppio Anche se due incontri li ho vinti per abbandono istantaneo quindi non li conto però Ah davvero? Come mai? Ma non lo so, questi che si mettono a lottare tirano fuori due shiny sicuramente legittimi come il mio Darumaga al pistacchio Vagamente mi sembra il capito che da te c'è un Togekiss, solo questo so, non so nient'altro È stato trovato un allenatore, chi sarà mai? Ernesto Sparalesto Non fallirò, voglio far nascere in te la sette di vendetta per altri due anni Dimmi una cosa Da quando quel c***o di Ninetales mi ha sciottato Garchomp Esatto perché mi ricordo che tu mi hai fatto una domanda Dopo Glacian e Flygon, chi era il mio Pokémon preferito? È Ninetales di Alola, senza dubbi Ah, ma come fai a vedere? Ah ma c'è la X Sì Eh io non lo sapevo Scusa, non l'hai mai usata fino adesso giocando online? L'hai mandato in caso? No, no infatti il gioco come fa a vedere le squadre altrui Chi vuoi baffare di brutto? C'è qualcuno che tu vuoi baffare di brutto lì? Oh mio Dio, c'è un po' d'anni Inizia la lotta Ho scelto malissimo, mi sai Pokémon iniziale, malissimo Perché non ho mai visto il tuo team, quindi non ho idea di cosa tu possa portare all'inizio Due draghi Buon per me Ah, questo Neuver non ho ancora dato il nome, lo volevo chiamare Batman Lo volevi chiamare Batman? Eh sì, è un pipistrello Io in ogni gioco voglio avere un Batman Di solito è Crobat, ma qui Crobat non c'è Tu stai fermo, Axolos Le boss Eh la madonna quanto danno Guarda il male che ti ho fatto Ah, vuole subito un vento in coda lui Nessun focus ascia all'inizio? Eh no Veri rischi Intanto Glacian ha fatto un macello Beh, allora diciamo che quei due sono la parte debole della squadra Sì, attendo giocchi subito la parte debole Andate cammini No, perché avevo visto che avevi Ice Cube Allora ho detto guarda mandiamo Axolos con Mold Breaker Giusto, giusto Chi max secondo te? Glacian? Ah no, Morpeco Mi ricordo i suoi video Invece no No, Glacian Morpeco l'ho maxato una volta così Morfano In realtà stava una bella follia Sai come di solito Glacian viene shottato quindi Bene, ti ho abbassato anche un po' l'attacco Quindi lo fai un po' tornare indietro È che hai comunque un team molto aggressivo Comunque il fuoco bomba ha fatto molto male Sono sorpreso che ha fatto solo così male L'hai fatto resistente a quel Glacian bastardo Glacian è resistente di suo Max HP, max attacco speciale Ah tanto, giusto per precisare Il Pokémon che mi soddisfa di più di questa squadra è Salazol Perché è esattamente come volevo che venisse fuori E chi sta maxando? Un Lucario Brava lei di marea come in cazza! Quel Max Rackfall In tutta tranquillità Non era efficace Non era efficace Vabbè però grazie a Vulnero Polizza come la chiamate voi italiani Vulnero Polizza Niente che su che la prima è andata È la prima andata male perché ho voluto iniziare con quei due che sono quelli che devo cambiare della squadra Tipo di solito Axolus lo uso giusto in caso vedo un Mimikyu o un Ice Cube Non so se l'avevi neanche messo in squadra e schiò sto giro No non l'ho fatto in tempo No un macello allora Non l'ho fatto in tempo Non la vinco mi vergogno Sono inciti vergognini brutto Subito? Dai Remarque si diretto Subito? Dai Remarque si diretto Maledetto stessa strategia del Team Wolf Però non ho un Wimsicotto del cazzo Cioè il mio salazzo è il buono Sai quanto ci ho messo a farmare questo Lucario con l'abilità giusta? Mezz'ora circa Eh mezz'ora non è neanche tanto No perché Lucario in realtà è stranamente facile da trovare nei raid Quindi basta che ti metti un Guard e War con l'abilità che copia le abilità E quando vedi scritto Ah Guard e War in ita giustizia Oh eccolo qua E anche il mio salazzo se ne va con la tabra Va bene va bene è uno scambio equo secondo me The boss Oddio ho paura di tutti e due The boss ha un attacco altissimo E poi pure quell'altro è super potente Se non ti shotto con questo Probabilmente ho perso Anzi no non ti posso shottare perché non ho la grande Mi sono scordato di questo piccolo dettaglio Saga Cosa Alla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per sicurezza di vincere. No, giusto per sicurezza. Ah, perché dici non sia mai che fallisca il pietrotaglio. Pure un critico, regaliamogli. Sono sicuro che quel critico ti è balzo la partita. Eh, avrebbe resistito a un pietrataio con cento di attacco con un lucario con l'attacco potenziato al massimo. Va bene, ancora, l'ultima, dai. Facciamo lo spareggio. Let the battle begin, baby. Let the battle begin. Vediamo che team ci porta questa volta. Oh, shit, dude. Shit, dude. Shit, dude. Shit, dude. How's it going, dude? Stay away from the arco? Shit, dude. Shit, dude. Dai, facciamo quel resto del video, se non soltanto io e te che facciamo... Shit, dude. Al gondod. Oh, shit, dude. Shit, dude. Shit, dude. Mi fa ridere Mizu, però mi fa anche... Mi mette anche ansia perché mi ricorda cose brutte. Cose brutte che guardi nel tuo tempo libero? Sì, ma è più che altro che... Io anche eviterei di guardare a volte, ma... Se sei un fan di anime, quelle cose ti cercano. Mi hai reso la vita facile? Bellidrome. Povero Bellidrome. Mi libererò piano piano del Top Talk, chius. È la madonna. Anche senza piano piano. Morpeco fa male, lo so. Non sottovalutare e fare un Morpeco. No, più che altro. Mi ha fatto il triplo del danno di prima. È perché essere elettrico, quella attacca. Ah. Ogni turno cambia in base al suo stato. Se arrabbiato è buio, se è felice è elettro. Adesso è buio. Sono buio. Jotaro. Oh my god. Citando Joseph. Oh my god. Citando quella cosa che piace a te. Oh my god. Ops, ho fatto caso. Non so cosa mi ha fatto. Maledetti 15 secondi. Mi mette troppa ansia il timer. Quindi faccio cavolato. Un' power up. Un' power up. Mi mette perchè ha fatto. Mi mette to fuirà. Un' power up. Un' power uire depuis. Un' power up. Unee. Un' power up. Un' power up. Un' power up. Un' power up. mamma mia non so come tocarmelo io sono abbastanza teso in tutto ciò si sei teso ok addio addio a giojo e ora si che non ho più modi per fermare quel coma bravissimo mi piace quando lisci quanta velocità di base salazzol? tanta quanto? tanta e dimmi il numero 117 ok sono più veloce sabaku portatelo nella tomba wow non gli faccio niente 5 colpi dai 5 colpi 3 non ci arrivo neanche con 5 colpi bello quello fortuna che l'ho fatto bulki non benissimo però è già qualcosa e muore raggiungiamo la beffa al danno con la vita piena un'altra ne voglio fare un'altra subito subito poi ci sarà il pareggio un'altra non dimenticherò mai quel giorno in cui hai shottato il mio garchan poi ci metto il flashback in grigio poi ti ricordi su persona 5 quando c'è Makoto che vuole far arrestare quel gruppo di mafiosi e c'è Anna che gli dice quando si tratta di ciò che facciamo noi tu sei inutile e lei inutile e tu ah è quello che le ha detto sua sorella poco fa poi flashback di letteralmente 5 minuti prima quando sei inutile ecco Flyron il falso Garchomp più bello di Garchomp che comunque Neuvern ha sostituito Garchomp in un certo senso perché anche lui è debole per 4 al ghiaccio ok adesso io conosco le tue strategie quindi dovrei cavarmi I'm ready boy I'm very ready Ernesto che nome beffardo tu nel tuo video hai detto Ernesto uomo molesto è esattamente la logica che ho seguito io per chiamare il mio personaggio Ernesto e faccio subito perché se hai visto bene i miei video il modo migliore per vincere contro i team che hanno una strategia come la tua è fermare la strategia iniziale e non me lo puoi fare fakeouts sono lontano eh infatti peccato buonanotte Salazor saluto il mio caro Flygon il mio compagno di viaggio il leader dei mini team che anche se sta in pacchina lui è comunque la guida spirituale di tutti i miei pokémons close combat se non di poi avrei dovuto usare bruciapelo sul tuo Morpeco visto che sicuro vinceva in velocità il mio Salazor allora Lucario mi piace come Pokémon però non mi piace come abbia le cosce giganti poi però c'ha le gambette piccolissime che gli escono da sotto eh ma quelli sono tipo dei shorts si ho capito ma sono di carne quindi fa strano BB Max Heilstorm interessante era un attacco speciale vero? fisico fisico? glielo pugno life duo vuoi fare il supporto follow me va bene subito Gengar 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 follow him Gengar bastardo 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 ma adesso il tuo stupido follow me ahah non può far nulla oh oh god bravo Gio 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 hai fatto il tuo lavoro vabbè è andata così non è ancora finita però ah shit dude shit dude shit dude cosa farai posso sperare posso solo sperare che vada come voglio io a guamù contro glasione contro reddy maria reddy maria Prego tentenna Ah vuoi farmi tentenna? Ma se tentenno ti giuro che tiro il joystick Ok ho perso ma è stato bello Non hai perso Mi farai tentennare? Ciao Vuoi vedere che mi tentenna? C'è il 30% non il 60% Non tentennare Glicio Non tentennare Glicio non tentennare Bravo Stupide strategie da tentennamento Va bene Lo spareggio finale che lungo video è mai stato questo Ho provato un'entrata strana Vediamo che succede Un po' particolare Wow Giorgio per primo I can't believe It's amazing It's amazing Mamma mia pizzeria WAMUU Si scrive così di Giorgio? No io ho aggiunto una U perché C'è Perché è come WAMUU C'è no è senza quella U Wow Quale simpatia Invece Togekiss come lo vorrei chiamare Visto che non gli hai dato un nome? Lo volevo chiamare Paz Come quella lì di Metal Gear Perché Togekiss porta la pace Quindi Paz Sono anche Ci sono così tanti personaggi Ci sono Metal Gear Che un attimo sto perdendo Metal Gear Peace Walker Ok Peace Walker L'ho giocato molto superficialmente Devo dire Follow me? Va bene Ti follow Con un attacco che colpisce tutti però Con un attacco che colpisce tutti però Con un attacco che colpisce tutti però E' molto americana la cosa dell'esplosione Quando i Pokémon Dynamax vengono sconfitti C'è non serve Basterebbe far rimpicciolire il Pokémon Però è lì Quanti turni ha fatto Lucario? Dal Dynamax solo due vero? E che cacchio ne so io? Mica li conto? Sono oltre quindi Io li conto Sono sai essenziali Quando si annulla la Dynamax Dico porca troia Dico accidenti Mannaggia Puffarvacco A casa Ma porca troia A casa bebe A casa Charizard Bebe Chichetto Fa male Charizard Io Charizard mi sono imposto di non usarlo Perché anche se normalmente mi piace come Pokémon La Game Freak Ormai la Game Freak La Nintendo me l'ha fatto stare sui coglioni Perché? Perché lo mettono ovunque Perché lo fanno sempre tutto a lui Porca basta Charizard C'ha due È l'unico Pokémon ad avere due mega evoluzioni A parte Mewtwo C'ha il Gigamax C'ha il Il Francomax È l'unico starter di canto ad essere qui Potevano dargli qualsiasi Pokémon Gigamax È l'unico a Dandel Ma tanto ha perso Che ne sai? Che ne sai? Hai un Salazzo al che viene shottato contro Tre Pokémon ancora Guarda non riesco neanche a shottare un Jojo Tanto adesso il mio Charizard potrebbe tranquillamente Lisciare tutti i suoi attacchi Quanto culo dovrei avere? Quanta sfiga tu dovresti avere? Charizard potrebbe mancarli Però se c'è una persona che Non li fallisce in genere È Lady Maria Bebe Che dude Dado Charizard Anche nell'ultimo video che ho fatto Un paio di Harry che ne ha lasciati Però Ha beccato quelli che doveva beccare Che dude Tu invece non lasciare Maya Mi raccomando Fireblast 75% di precisione Ne hai fatti 4 80% O era 75 Non mi ricordo Bravo Charizard Pure un critico Per farti proprio male Tanto male Tanto male Bene dude Hai perso Si avevo vinto all'inizio Poi tu hai detto Facciamo un'altra due Vabbè abbiamo il primo che ha raggiunto i tre punti E sono stato io Si ma all'inizio era al meglio delle tre Poi è diventata al meglio delle cinque Scusa no la prima l'ho vinta io La seconda l'hai vinta tu E ho pure scelto a caso Cioè mi ha scelto il gioco La terza l'hai vinta tu Ho capito perché sei stato scemo tu No perché il gioco ingiustamente Ha detto ti scemo io Poi abbiamo pareggiato C'era la bella Basta È andata come è andata Hai perso Torna a pianificare il piano malefico Per il prossimo team Ah facciamo così Se questo video raggiunge i 1000 like Kisuke mi presta la sua squadra Con il codice per affittare le squadre E la porto un po' A combattere Là fuori E ci provo insomma A usarlo Anche se le tue strategie Sono così comuni Che in realtà penso che Sono prevedibili Poi fai troppo leva Su attaccanti fisici Sono tutti fisici Tranne uno Perché il problema dell'attaccante fisico È che ci sono tanti counter Contro team fisici Con un sacco di Willowisp Là fuori Arcanine con Intimidate Quindi non fanno altro che Lanciarti Garios Arcanine e Babobati Intimidiscono Il tuo attacco diventa Inutile Bla 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 Signori Grazie di essere stati con noi Spero che questo video vi sia piaciuto E adesso alla mia destra Appariranno dei video cliccabili Se avete ancora bisogno Di una piccola dose Il vostro caro Zio Peo di quartiere E il tastone iscriviti È molto più importante Cosa devono picchiare Ghisuco? Eh te? No la campanella La faccia brutta La campanella signori Campanella Bu 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 bu